Per quanto riguarda le forze dell'ordine, sono in programma alcuni incontri anche, c'è stata anche l'attenzione sui tali poi rientrati appunto alle forze dell'ordine. Sulle forze dell'ordine noi ci siamo schierati subito dalla loro parte, abbiamo detto che i soldi che servivano si potevano prendere dall'1% del gettito fiscale in più sul gioco d'azzardo in Italia, che vale quasi un miliardo di euro in Italia, ed è tassato solo al 10%, e inoltre abbiamo avviato una grande campagna di ascolto di tutto il comparto sicurezza, difesa e soccorso, che stiamo tenendo qui alla Camera dei Deputati, abbiamo già incontrato gli agenti di polizia, incontreremo a breve i carabinieri, stiamo costruendo una riforma delle forze dell'ordine per dare da una parte sicurezza e da un'altra dignità a chi fa sicurezza per tutti i cittadini italiani.